16. A benguardare Dizionario del cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti a cura di Vubbi Aldilà Vedi dopo morte Nel cosiddetto Aldilà ci sono anche entità di esseri che non sono stinchi di santo ma sono nella loro dimensione e non possono interferire nella vita degli uomini Il male che può venirvi non vi viene dagli spiriti e neppure dai diavoli può solo venirvi dagli uomini e a benguardare solo da voi stessi 31d